Ben ritrati, diamo subito la parola all'operatrice Shatsu che ha coltivato questa possibilità di addentrarsi in questa materia, la Ceri Wakabayashi. Il mio corso è il corso dello Shatsu. Shatsu è un massaggio giapponese tradizionale usando il digito pressione. E quindi passiamo tutta la parte del corpo per rilassare il sistema nervoso e anche per elasticizzare la nostra muscolatura. Loro quando si applicano tra di loro sentono anche il beneficio anche se la mano non è esperta. Comunque il tatto regala moltissimo il beneficio e quindi si può applicare a casa anche alla mamma, papà, chi vuole e portare a casa questo beneficio anche in famiglia. Noi non siamo abituati a ascoltare il nostro corpo e facendo questi esercizi impara anche a ascoltare la nostra sensazione, la nostra emozione e accettare come siamo noi.